Appassionati di futsal, sportivi biancorossi, benvenuti qui al Neolu di Manto, tutto è pronto a questa super sfida tra Savi a testa, Manto e delle 84. Yosiko ma riparte Cabeza, attenzione a Cabeza, conclusione di Cabeza, fuori di un soffio del giocatore Italo Paraguayano, attenzione all'uffito di Fior, porta sguarnita, salva Donin, clamoroso, se ne invola in fascia si accetta a Yosiko, la conclusione di Yosiko e c'è proprio la rete del numero 10. si scambia con Misail, attenzione a Misail, Misail la conclusione, la miracolo di Fabio Tondi, Cabeza, Misail perde palla, errore sanguinoso da parte di Misail, attenzione Vidal, palo pieno, e riparte Salas in contropiede, Salas per Misail, intervento prodigioso di Fabio Tondi, che è pronto a cercare probabilmente uno schema, anzi no, andrà alla conclusione, e c'è il palo, Donin, Enrico Donin avanza, il sinistro di Donin per Cabeza, che si invola, Cabeza la conclusione, fuori di un soffio, chiama ad avanzare i suoi, attenzione si invola, ma paratona di Fior, due volte Fior riesce a parare, liberato, a parte del numero 5, esce, attenzione, c'è il gol di Matheus, intanto, ancora Cabeza che avanza, attenzione a Cabeza, è il gol di Cabeza, il gol di Cabeza del Mantua, che accorcia le distanze, l'imbucata sanguinosa di Lemos per Cuzzolino, e la mette dentro ancora Vidal, Donadoni, il 2 contro 1, 2 contro 1, Tiago Lemos, il gol, il gol del Mantua, il gol del Mantua, Tiago Lemos. Salas, 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 attenzione a Salas, Salas, ma che parata di Tondi, a 8 secondi dalla fine, attenzione a Cabeza, colpo di tacco, Cabeza che non si aspettava questo pallone, se ne va Cabeza, salta Matheus, ma che palo di Cabeza, affrontato da Misel, prova la conclusione centrale, attenzione la palla rimane lì, e c'è il gol da parte di Yoziko. Vedremo la conclusione adesso di Cabeza, attenzione a Cabeza, di destro Cabeza, Misel, il gol, il gol di Misel, il gol di Misel che la riapre. La palla è lunga a cercare Matheus, Matheus la palla è dentro, e c'è il gol di Raguso, il gol di Raguso è il 5 a 3, a parte di Raguso, non rispetta la distanza, Vidal non ha rispettato la distanza, e Fior, doppia conclusione. Cabeza, Cabeza si accentra, Cabeza, Cabeza, Misel, Cabeza, la palla rimane lì, incredibile. Palla per Yoziko, affrontato da Misel, Yoziko, palla fuori, incredibile di Vidal. Cuzzolino, e la partita finisce qui con l'Ello 84, che batte il manto a perra, 5 a 3 qui al Palano Lu.